bellissima bellissima oggi è una giornata bellissima Cervinia è sempre una stazione internazionale abbiamo qua una rappresentante brasiliana grande Cervinia super ok diciamo che più bello di così è stupendo è stupendo le piste sono fantastiche ma è la prima volta e vieni a Cervinia no è dal 15 ottobre che vengo a Cervinia e tutto l'anno scorso bellissimo dopo le grandi nevicate il Cervinoski Paradise si presenta nella sua veste migliore si scia da Cervinia a Valturnage aperto anche il collegamento internazionale con Zarmat per uno sci senza frontiere la pista del Ventina è aperta tutti i campi scuola sono perfettamente agibili compreso quello in quota a Valturnage a Cervinia le piste del territorio Panceron sono state bonificate e quindi perfettamente sciabili se invece cerchi una vacanza ad uso famiglia Chamois e Tornion ti aspettano una nevicata come non si vedeva da quasi 30 anni compressore completamente aperto abbiamo le piste fino a Platto Rosario in condizioni ovviamente ottime spettacolari fuori pista e che dirvi di più vi aspettiamo a Cervinia è possibile acquistare lo ski pass online una comodità che ti consente di evitare di passare dei ticket office e di essere subito sulle piste di sci senza nessuna attesa sul sito www.cervinia.it troverai tutte le informazioni per l'acquisto facile semplice e immediato i grandi appuntamenti di gennaio e febbraio a Valturnage va in scena il grande spettacolo dello sci alpinismo con la crono scalata delle cime bianche gara in notturna aperta a tutti e con la partecipazione dei più forti atleti nazionali da giovedì 8 e sino a sabato 17 febbraio il classico appuntamento con il carnevale storico di Cervinia con la rappresentazione dal vivo della leggenda della dama bianca e del gigante gargantua Grazie a tutti i nostri spettatori